Qui a Padua non poteva mancare la Honda, la Honda che si presenta con questo 1000RR ne avevamo già visto, ma una linea sportiva, estremamente sportiva, una linea direi che anche con un bel tacco. Sì, sicuramente c'è un bel tacco, però comunque è una linea bella, sportiva ed elegante. Honda ha coniugato insieme eleganza e sportività con questa moto e prestazioni. Prestazioni che sono migliorate rispetto al modello precedente? Sicuramente, per cui c'è molta più potenza e molta più affidabilità anche di guida della moto stessa. Molta dell'esperienza deriva anche dalle corse per quanto riguarda questo modello, visto che siete campioni del mondo nella 1000 con Toseland, almeno in carica. Certo, e speriamo di ripetere quest'anno le stesse cose che abbiamo fatto nel 2007 e quindi essere ancora campioni del mondo anche nella Superbike. So che stanno lavorando duro, tant'è che non avete partecipato ai primi test proprio perché la moto è nuova e state cercando la modifica giusta per essere estremamente competitivi. È il nostro obiettivo primario quello di ripetere appunto la vittoria anche nel 2008. Eleganza, sportività, aggressività, questo è il segreto della nuova RR. Per i più giovani invece? Per i più giovani abbiamo la CBR 600 RR in versione anche Anspri. Anspri come il team campione del mondo che era appunto a questo sponsor e che è stato campione del mondo sei volte. 6 volte campione del mondo consecutive e quindi ci auguriamo comunque di continuare a mantenere questa posizione anche se è sempre più dura la guerra che c'è in Supersport, però comunque riteniamo che i risultati debbano uscire fuori anche nel 2008. Grazie. 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 Grazie.